Sindaco, siamo qui a parlare del patto di stabilità, l'opposizione aveva criticato in questi mesi, in queste settimane, sulle spese pazze, buchi di bilancio, parla di distesto finanziario, però siete qui a ribadire che le problematiche sono legate a questo famigerato patto di stabilità che ingabbia di fatto i comuni, quindi anche il comune di Giulianova per quanto riguarda i bilanci. Abbiamo fatto questa conferenza stampa sperando che si metta la parola fine su tante inesattezze che sono state proferite, intanto il bilancio di Giulianova è sano, non ci sono buchi di bilancio assolutamente, di fatti lo è dimostrato dall'assestamento che porteremo lunedì prossimo, è un comune virtuoso come è stato certificato dalla Corte dei Conti, non ha mai sforato il patto di stabilità e è un comune che è già iniziato da tempo, una lotta contro gli sprechi e per contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, noi siamo all'avanguardia in questo. Noi rispetteremo il patto di stabilità, il problema sarà molto più grande per il 2012 di anni a venire perché su impulso della comunità europea lo Stato italiano ha posto dei paletti. Per il prossimo anno si prevedono ulteriori mancate arrivi di fondi e poi un saldo dovete raggiungere, l'ha detto nel 2012, oltre 2 milioni di euro di saldo. I trasferimenti diretti dallo Stato sono stati meno 815 mila euro, l'anno prossimo saranno meno 980 mila euro, a ciò si aggiungono tagli dallo Stato, dalla regione come trasferimenti indiretti per la spesa sociale e tutto questo è difficoltoso. Poi c'è l'asticella del patto di stabilità interno, per il 2012 noi dovremmo avere un saldo positivo di più 2 milioni e 100 mila. Il sindaco ha poi sottolineato le conseguenze che deriverebbero nel caso in cui il patto non venisse rispettato. Se ciò accadesse, spiega il primo cittadino, dovremmo aumentare parecchio le tariffe dei buoni pasto degli alunni, delle rette agli asili nido e il costo del trasporto degli scuolabus, senza contare il fatto che saremmo impossibilitati a procedere ad assunzione e ad accedere mutui per finanziare le opere pubbliche a fare investimenti per la città. Ma soprattutto, dice ancora Mastromauro, ci vedremo costretti ad aumentare la Tarsu e le aliquide IRPEF. Dalla settimana prossima illustrerete tutto questo, la cittadinanza, avete parlato di informazione attraverso dei depliant informativi sulla questione del patto di stabilità. Sì, io lo farò come sindaco di questa città perché i cittadini, già è complesso per uno della materia il patto di stabilità, il meccanismo, immagino per un cittadino normale lo sia ancora di più. Chiedo che siano tutti gli enti a spiegare che cosa vuol dire rispetto del patto di stabilità all'interno.